Ieri sera ha avuto a Roma un importante incontro sulla BOL. Ci sono delle prospettive, ci sono notizie positive per i lavoratori? No, purtroppo no. Dando non è ieri sera, perché era ieri notte direi, visto che abbiamo finito alle due e mezza questa notte, purtroppo si è avuto da parte dell'azienda una chiusura veramente intransigente. Debo dire che ieri rappresenta il governo e rappresenta il ministero con due direttori generali del ministero del lavoro. Quindi abbiamo messo a disposizione tutte le possibili proposte a partire dall'idea di fare un anno di cassa integrazione in più per i lavoratori per finire alla richiesta, un po' come è successo per Aniwell o per altre aziende che l'azienda mettesse a disposizione gratuitamente il plant per chi volesse investire e vi devo dire che ci sono delle possibilità. Purtroppo abbiamo avuto una chiusura sul primo punto e sul secondo punto. Quindi un'azienda che ha deciso di andarsene, che fa partire una procedura, io adesso devo andare sopra a incontrarli, che fa partire una procedura che scade il 25 di dicembre. Io vorrei sempre ricordare, a Natale, neanche il garbo, neanche l'umanità di evitare almeno questa data, non voglio pensare che l'abbiano fatta apposta, ma anche se non se ne sono accorti è altrettanto grave, che rifiuta di fare la cassa integrazione che pure c'è e che è disponibile, che non mette a disposizione lo stabilimento gratuitamente, che lo metterà a disposizione tra alcuni mesi, come se qui ci fossero delle imprese che aspettano per investire. L'unica cosa che hanno messo a disposizione sono degli incentivi per i lavoratori che debbano andare via. Adesso il sindacato, ci incontreremo, valuterà, i lavoratori valuteranno se prendere questi incentivi. È il minimo, quello che voglio dire è che, prima di tutto, questa impresa, per quanto mi riguarda, io dedicherò il poco di attività che ancora mi rimane a denunciare la vergogna di questo atteggiamento, perché veramente è Natale, non è tollerabile e poi naturalmente per quanto riguarda la sorte di quei lavoratori, io adesso li incontrerò nei prossimi giorni, noi continueremo a lavorare perché ci sia un'alternativa possibile a questi lavoratori che sono delle persone speciali, guardate, si può dire di tutti i lavoratori, ma di questi veramente si deve dire, sono persone speciali, con un'etica del lavoro, con un attaccamento a questa impresa, una cosa commovente e non meritano di essere trattati nel modo veramente disumano con il quale sono stati trattati, noi comunque continueremo a lavorare.